No! Andiamocene! Non è sicuro! Si hanno colpiti! Mineri! 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 Va bene a terra! Andiamo al luogo dello schianto! C'è, che impulso! Vediamo se ci sono sopravvissuti! C'è il fuoco! Aggiriamolo! Di qua! Un kit cardio. Ehi, ha della tecnologia Steam. Jack può usare lo Steam per farci attraversare il fuoco. Ok! Via, via! È roba forte! Me ne ero dimenticato! Ok! Organismi non trovati nella base. Registro tipo di rinco sconosciuto. Sen'sì, è giocalfino! Ehi! Le più sicurezza avanzola! Prendo rinco! Concentrare il fuoco Deco, impulso Bene, è il momento dello steam Dai, laggiù, cecchini Stendiamoli Usa lo steam e prendili di fianco Sto attaccando Grazie, cecch Renata, arriva Quanto su quel drone Sto attaccando Ben fatto, jack Granata Attenzione, sono io Li abbiamo presi tutti Se quello stormo spegne i nostri bot, come manteniamo l'insediamento? JD, Dell, io e Matt, abbiamo lasciato il muro, lasciate ovunque e non riusciamo a contattare il controllo Le comunicazioni non vanno, mi ricevi Kate? Siamo stati separati da Cole, Faze e Carmine Allora possiamo riorganizzarci, incontriamoci al teatro Ricevuto, ci vediamo lì JD, passiamo per l'hotel Ehi, là, per la banchina Forza, qui dentro Ehi, jack Facci luce Oh, merda Perdiamo un sacco di Gears Phoenix, sono tornata al mio compagno Proverò a portare via di qui queste persone Ricevuto, Lizzie Buona fortuna Allora Aspettate. Ho detto ritirati! Ma stiamo scherzando? Quello stormo non solo spegne i pipì, ma li corrompe! Ma che diavolo? Aspettate. Attenzione, non vogliamo che si spegnano. Ci spegniamo gli altri. Ok. Ok. A posto. E? No! Oh Oh Ok, hanno finito Ho visto abbastanza di questo ornore Raggiungiamo quel teatro Nulla da dire Andiamo Stiamo per entrare, Della Preparati Questo merdaio è scoppiato così in fretta Ehi, colpa a scarmine Pensi che stiano bene? Lo spero Raggiungiamo Kate e papà Poi penseremo agli altri Oh merda Da quella parte no Sì da questa parte per il diavolo per il diavolo mercato Oh, merda! Sopra di lui! Tirate a quei rei! Che monso! Vedi altri sulla finestra! Il gato! Sono dall'altra parte! Quello è l'ultimo! Bene, allora andiamo. Questi cosi mi fanno paura. Ok, quindi... Teste cosi! A presto! Quena passare! Ok, allora... Alla prossima! No, non... ...d'accordo! ...ganna avuta! Vengen! Passare! Vengen, vengen... ...lo vengen! 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 Sopra di avuta! Da questa parte! Merda, merda, merda! È troppo veloce! Che cazzo è quello? Chi se ne prega, uccidiamoli! Tocchia sangue! Tocchia sangue! James! James, ricevi? Ricevuto, papà. Porta è chiaro. Attenti! Quello stormo è fatto di succhi a sangue. Sì, lo sappiamo! Stanno interferendo con le nostre comunicazioni, ma Merda ha mandato una squadra a liberare le torri radio. Siamo al teatro. Siete vicini? In fondo alla strada. Stiamo arrivando! Del, ce ne andiamo! Ora controllo! Ora! Forse non sanno dello storm! Grazie, controllo. Merda! Aiutiamoli a ripulire la strada! Sergente! Vi aiutiamo! Grazie, signore! TB! Ripulite questa strada! Affermativo, tende! Comunisci! Comunisci! A tutte le unità! Continuate! Arrendi! Arrendi ai G2G! Mi sapevo acquisito! Dal! Sergente a terra! Sto attaccando! Facione confermata! Relista! Granata! Cittadina! Siamo i miei amici! Salvatete! Bersaglio acquisito! Oh, buona sera! Stormo! Stormo! Oltre me la ricorda! Partitelo! Sono terapeccato! Bersaglio acquisito! Jace! Qui! Cittadina! Via! Sì! Del! Via! Via! Merda! Bene fatto. Che macello. Riuniamoci a Marcos... Era ora che vi faceste vedere. State bene. Beard, li abbiamo. Dove dobbiamo andare? Beard, siete al teatro? C'era un gruppo di evacuati. Ho perso il contatto con l'Ur un'ora fa. Ok, li raduneremo e li porteremo in salvo. Eh, Beard, se qualcuno chiama i rinforzi, non ascoltarlo. Ricevuto, ma ce ne sono già un sacco là fuori. Ricevuto. Teniamo gli occhi aperti. Ehi, quell'attore, come si chiama? Jace Stratton. Era nello spettacolo che facevano qui, no? Non preoccuparti. Jace sa badare a se stesso. Qui dietro non c'è nessuno. Controlliamo il palco. Ehi, stai bene? Sì, non ci pensare. Solo un mal di testa. Bene, andiamo. Cavolo. Niente. Se qui c'erano delle persone, dove sono finite? Forse sono scappate. Apriamo quel sipario. Devastate. Questa è una misura. All'un, che vuole, ti piu' solo. La mia un'evole per favore. C'erano. Adesso. Poi, è un'evole per내. Ok, proviamo a passare. Eh, ragazzi? Abbiamo un problema. DR-1, corro. Non è una buona cosa. Guarda dietro. Gli evacuati sono tutti morti. Stiamocele buoni e dobbiamo uscire. Dannazione! Uccidete quella cosa! Non sei? Fuoto sul montone! Sono sul balcone! Dannazione! Arrivano! Dannazione! Cosa? Il prossimo! Tutto qua! È fatta! Adesso... Usciamo di qui! Troviamo gli altri! Ehi, possiamo uscire di scena sulla destra! Guarda! Jack! Impulso! Aird! Gli sfollati del teatro non ce l'hanno fatta, ma Cole, Fuzz e Carmine... Come sono messi! Lizzie è tornata al convoglio, ma continuano a depistarla. Clay ha trovato un Raven, ma non riesco a raggiungere Cole o Fuzz. Vi avete sentiti? No, non ancora, ma continueremo a cercare. Allora! 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 E basta! Bailda! Siamo bloccati dall'altra parte della città! Qui, Lizzie! Siete al teatro? Lizzie! Grazie a Dio! Affermativo! Mi hanno deviato tipo sei volte! Posso prendermi! Arrivo da voi! Noi siamo qua! Delta, chiudo! Qui dentro! Forza! Ehi! Wow, wow, wow! Siamo noi! Abbiamo... Abbiamo portato compagnia! Oh, merda! A terra! Oh, non ho bisogno! No! È il bastardo che ha battuto il Raven! Vaga, come lo dai! Non dimentico mai una faccia! Quindi dove si spara? Mirate alle bustole! Espinito! Scusatemi un secondo! Torno su! Gol! Dove vai? Oddio, torno sottico! Così, c'è! È arrabbiato! E ora ci sono i droni! Ma dove è Cole? È andato a prendere un gelato! Oddio! 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 Preso! Guardate! L'avevo detto! Sarei tornato subito! E ora di cena! Prozzo! Cole! Sei fuori! Sempre! Ma ora la bocca piena! Allora, Del, riconosci qualche faccia amichevole? Forse quel manifestante pacifico che mi ha rotto il naso? Ti meritavi di peggio! Di un naso rotto! Perché non mi fai vedere che cosa mi meritavi? Una barrazione abbastacazzata! Sei un codardo del cazzo! Codardo? Wow! Beh, ho una notizia per te! No! Indovina che ho ordinato a disparare il primo colpo, Del! Proprio su quei pacifici manifestanti di cui parli! Sì! Esatto! Proprio il tenente perfettino! Ragazzi! Andiamo, ragazzi! Insomma, nel senso, stavano lanciando incendiarie! Era tutto confuso, ok? Io... Io non volevo... Che succedesse! Lasciamo perdere! Bim, bim! Ecco la cavalleria! Ascoltate! Ne riparliamo più tardi! Andiamo! Veloci! Dobbiamo portarli via di qui! Oh, cazzo! Cazzo, siamo bloccati! Avanti! Attiriamo il loro fuoco! A tutti i camion! Indietro! Baird! Stiamo perdendo il convoglio! Ci serve il martello! Cosa hai detto? È pronto a sparare, vero? Ragazzo, non ho nemmeno le coordinate! Usami! Ma sei impazzito? Forse! Devi puntare sulla mia armatura e correggere il tiro! Non ho intenzione di farlo! Troppo tardi! Non abbiamo scelta! James! Fuoco di copertura! Baird! Ci sono quasi! Preparati! Davvero, ragazzo? Non credo sia il caso! Ben, ora! Fuoco! 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 No, 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 no. Oh, ho visto? Sapevo che avrebbe funzionato. Bird! Bird! Che cazzo succede? Non riesco a controllarlo. Iris, spegnilo. Devi spegnerlo. Oh, dannazione! Scappate! Oh, no. Muovetevi! Muovetevi! Dai! Oh, merda! Tutti fuori! Tutti fuori! Uscite da lì! Sono qui! Sono qui! Birdie! Birdie! RANGE! Diamoci da fare. Non abbiamo tutto questo tempo. Kate! Ce lo portiamo dietro? Sì, certo. Perché no? Va bene. Andiamo? E comunque, che problemi hai con Jackie? A parte aver passato la vita a fuggire dai bot COG, nessuno? Hai visto? Te l'avevo detto che non eri tu, ma lei. Ah, ma che carini. Ancora mal di testa? Dale, sto bene. Non ti ascolterà. Perché non lo fai decidere a lui? Ehi, è lei. Se ne sei sicura? Non potete entrare con le armi COG. Consegnateci. Tu sai chi era mio padre, vero? E anche chi era mia madre. Eppure sei tu che porti l'armatura a COG. Vallo a capire. Amico, non ci diamo un bel niente. Fa quel che dice. Va bene. Le potete prendere quando ve ne andate. Fateli passare. È sul retro all'impianto del vapore. Cercate di non combinare guai. Dipende da lui. S Dekano. S F I R T S S Grazie.